La limitazione al Palazzo Municipale di Termoli da parte dei consiglieri, se non per motivi di estrema urgenza, è stata voluta dalla Giunta di Centrodestra per contenere gli accessi in municipio e non per sospendere le attività istituzionali o vietarle ai consiglieri comunali. È una iniziativa dettata per garantire ai consiglieri di collaborare nelle attività di protezione civile. Botte risposta tra centrodestra e opposizioni nella città di Termoli. Tutti in consiglio municipale possono inoltre scaricare un'applicazione per poter partecipare in videoconferenza e condividere le attività istituzionali necessarie, sostengono dai banchi della maggioranza. Il sistema adottato potrebbe servire anche nel momento in cui la situazione di contagio dovesse precipitare. Nessun inciampo fa sapere il sindaco Francesco Roberti nella gestione di questa emergenza all'indirizzo dei suoi avversari politici, ma un impegno nell'affrontare le problematiche al fine di tutelare i cittadini. La chiusura di Palazzo Sant'Antonio era stata chiesta da alcuni giorni dalle minoranze per ragioni di tutela della salute pubblica di cittadini, amministratori e dipendenti. Tra l'altro gli stessi esponenti del centrosinistra termolese avevano deciso autonomamente da qualche tempo di non partecipare più alle commissioni e di non accedere alla Casa Comunale.